Nel 2008 ho pubblicato un libricino che si intitolava Risorgimento ed Europa. Confrontavo degli articoli, all'epoca ne scrivevo molti, degli articoli che avevo scritto sul risorgimento per caratterizzare con che modalità fosse stato attuato e articoli che avevo scritto sulla Costituzione dell'Europa, sulle modalità con cui si andava realizzando questo progetto di unificazione del continente. Come il Risorgimento è stato legittimato da parte dei Savoia e dei Liberali in nome di principi bellissimi, Costituzione, Monarchia Costituzionale, ma come il Risorgimento è stato di fatto realizzato facendo diventare carta straccia tutti gli articoli di quella Costituzione che tanto si magnificava, così adesso rischiamo di fare la stessa cosa con l'Unione Europea. Questo lo scrivevo nel 2008, adesso le cose sono andate molto avanti e adesso il Parlamento, la Commissione, la Presidenza della Commissione dell'Europa si stanno scagliando come un solo uomo contro Polonia e Ungheria. Perché? Perché non rispetterebbero lo Stato di diritto. È evidente che tutti rispettiamo lo Stato di diritto, compresi i polacchi e ungheresi. Certamente bisogna però vedere, al di là delle parole, in che modo le istituzioni europee vogliono costringere Polonia e Ungheria a accettare il finanziamento degli Stati disastrati dal Covid, vogliono usare queste scamotage per far passare le idee che alcuni in Europa, che alcuni governanti europei, che alcuni grandi filantropi mondiali alla Soros vogliono siano rispettati da tutti. E allora qua abbiamo una definizione diversa di che cos'è lo Stato di diritto. e adesso vedo che il Parlamento, recentemente, in questi giorni, ha approvato una risoluzione perché sia garantito l'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi a tutti gli Stati membri. In particolare l'accesso alla contraccezione, compresa la contraccezione d'emergenza e all'assistenza all'aborto, l'assistenza anche all'aborto farmacologico precoce in forma domiciliare. Questo vogliono in nome dello Stato di diritto. Peccato che l'articolo 35 della Carta d'inizio, cioè di una carta fondante dell'Unione Europea, vieti alle istituzioni europee di imporre ai singoli Stati membri quali debbano essere le politiche per la prevenzione sanitaria e per le cure mediche, per ottenere le cure mediche. Quindi da un lato, nella Carta d'inizio, l'Europa riconosce come di competenza dei singoli Stati le cure sanitarie e le cure mediche e dall'altro, adesso con la scusa del Covid, si vuole imporre modalità che alcuni Stati hanno scelto, anche alla Polonia e l'Ungheria che ne hanno scelte giustamente e liberamente altri. Non solo questo. Ma adesso l'Unione Europea ha condannato anche il Parlamento, ha approvato una risoluzione nella quale condanna la sentenza della Corte Costituzionale Polacca. Oipè, la Corte Costituzionale Polacca di che si occupa? Della Costituzione Polacca. È per questo che è la Corte Costituzionale Polacca. E invece il Parlamento europeo, nella sua grande luce gnostica, pretende di imporre alla Corte Costituzionale Polacca di cambiare parere in nome sempre dello Stato di diritto. E la questione di rimente è ancora una volta quella dell'aborto. La Corte Costituzionale Polacca ha emesso una sentenza storica condannando l'aborto eugenetico. Ricordando probabilmente cosa Hitler ha imposto alla Polonia durante l'occupazione nazista. Lo Stato etico terribile che è stato imposto ai polacchi dai nazisti prima e dai comunisti poi. Allora, Polonia e Ungheria, il 26 novembre adesso, hanno firmato un patto in cui decidono di portare avanti insieme la difesa di che cosa? Dello Stato di diritto, della democrazia, della libertà. Perché Polonia e Ungheria stanno al di là delle parole, nella realtà dei fatti, rispettando lo Stato di diritto e facendo una battaglia a favore che questo Stato di diritto sia rispettato per tutti, anche per noi. Grazie a tutti.